La tratta degli esseri umani come business illegale più redditizio in tutta Europa. Se ne è discusso a Termoli nell'ambito del convegno mai più schiave né schiavi voluto dalla Caritas in occasione della giornata mondiale del rifugiato indetta dall'ONU. Ospite del convegno la giornalista Anna Pozzi che ha scritto il libro dal titolo Il Coraggio della Libertà che dà voce al calvario di una donna nigeriana vissuta a stretto contatto con il mondo della prostituzione. La tratta degli esseri umani è un fenomeno globale che riguarda tutti i paesi al mondo. Non c'è paese secondo le Nazioni Unite che non si è interessato oggi dalla tratta e dal fenomeno orribile delle nuove schiavitù o come paese di origine o come paese di transito o come paese di destinazione dei nuovi schiavi. L'Italia è tutte e tre le cose, paese di origine, transito e destinazione. Chi sono i nuovi schiavi? La gran parte di loro sono migranti che per varie ragioni o costretti o forzati o perché vengono da situazioni di gravi crisi, guerre, violazioni dei diritti umani hanno lasciato le loro case e si ritrovano vittime delle reti dei trafficanti e degli sfruttatori che sono delle vere e proprie mafie potentissime che organizzano i viaggi ma soprattutto organizzano lo sfruttamento. Le principali finalità di questo sfruttamento sono lo sfruttamento sessuale, quindi la prostituzione coatta e il lavoro forzato. Per il recupero di queste persone a che punto siamo con l'integrazione? Per quanto riguarda a livello governativo esiste un piano nazionale antitratta. Dal 2016 è stato rifinanziato lo scorso marzo con 24 milioni di euro per 21 progetti distribuiti in tutte le regioni italiane. La maggior parte sono focalizzati sul sfruttamento sessuale, solo tre sullo sfruttamento lavorativo. Intercettano migliaia di donne, soprattutto nigeriane, anche se non sono le uniche costrette a prostituirsi in Italia e offrono delle possibilità di protezione sociale e integrazione. Accanto a questi 21 progetti ci sono tutta una serie di iniziative, anche legate al privato sociale o alla chiesa, di varie gate che possono andare dall'unità di strada, che è il primo livello di contatto, alle case di accoglienza, alcune case di accoglienza protette, a indirizzo segreto, eccetera, perché ovviamente devono offrire anche una protezione rispetto ai trafficanti, ai progetti di integrazione che passano soprattutto attraverso l'apprendimento della lingua italiana, stage lavorativi, formativi e così via.